Il ruolo della Italpannelli, i primi risultati delle analisi sulla nube sono confortanti per il sindaco di Ancarano, non sarebbe tossica. Concussione negli appalti, arrestato il sindaco di Tagliacozzo assieme ad un assessore e al capo dell'ufficio tecnico. La protesta, frana la strada incontrata a mezzanotte, i cittadini denunciano, da tempo lo dicevamo, adesso siamo isolati. Santomero era stato arrestato per aver chiesto il riscatto per il bar, scarcerato torna dal barista e lo aggredisce. Il concorso, i babbini della Noe Lucidi, si scoprono scrittori e vincono tra duemila scuole. Sport calcio sul Teramo Rimini, resta il Rebus, avversari ancora senza stipendio. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte in questa prima edizione del Tg che si apre ancora con la cronaca per l'incendio di Ancarano a Little Pannelli e le titubanze dei abitanti a Valtronto sulla natura della nube tossica, ma i rilievi sulla tossicità dell'aria nella zona dell'incendio potrebbero essere negativi. Lo annuncia in via ufficiosa il primo cittadino di Ancarano, Angelo Panichi, attraverso il suo profilo Facebook. Mi è gradito comunicare in via del tutto ufficiosa, previo colloqui telefonici e intercorsi con chi di competenza, ha scritto il sindaco su social, che le prime parziali analisi effettuate sull'aria prelevata presso il centro abitato di Ancarano non presentano a momento criticità. Panichi nell'aggiornare i cittadini sugli eventuali danni ambientali sottolinea come solo nella giornata odierna arriveranno notizie certe più puntuali, anche se le prime notizie sarebbero positive. Ribadisco che trattasi di analisi svolte su campioni istantanei, ha detto Panichi, ovvero prelevati per un periodo di tempo determinato. Più precise saranno le analisi svolte attraverso le rilevazioni compiute con l'attrezzatura installata dall'Arta presso la scuola elementare e che termineranno nella mattinata. Resta inteso altresì che questo monitoraggio, ha continuato il sindaco, continuerà anche nei prossimi giorni e che non dovrà e potrà fermarsi o limitarsi a questo periodo di tempo iniziale affinché ogni forma di prevenzione venga posta in essere a tutela della salute. Ha concluso Panichi. Nel frattempo sono seguite anche con apprezzione le condizioni del vigile del fuoco ferito durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Il 44enne, effettivo presso il distaccamento di Nereto, che ieri era stato trasferito all'ospedale di Mazzini di Teramo, nel reparto di neocologia, nella nottata è stato trasferito in rianimazione. Le sue condizioni sono sempre gravi e la prognosi resta riservatissima. Il sindaco di Italia Cozzo, Maurizio Di Marco Testa, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Avezzano sull'affinamento di appalti pubblici. La Procura ipotizza reati che vanno dalla tentata concussione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. L'inchiesta scattata ad ottobre scorso con l'acquisizione di atti in municipio da parte dei carabinieri della Compagnia di Italia Cozzo ha portato all'arresto di altri amministratori liberi, professionisti ed imprenditori. Il sindaco Maurizio Di Marco Testa è stato rinchiuso nel carcere di San Nicola ad Avezzano. Il primo cittadino dovrà difendersi dalle accuse formulate dal procuratore capo Andrea Roberto Morichini, che ipotizza reati importanti. I carabinieri hanno seguito anche altre tre ordinanze cautelari ai domiciliari per l'assessore comunale Gabriele Venturini, per Cargo Tellone, architetto di Tagliacozzo e Giampaolo Torrelli, responsabile dell'ufficio tecnico del comune. Per altri cinque imprenditori, tutti del posto, è scattato il divieto di esercitare l'attività di impresa. Nel febbraio scorso un incendio, lo ricorderete, aveva distrutto le tre autovetture di proprietà dello stesso sindaco parcheggiato sotto la sua abitazione. Il fatto era stato oggetto di indagini e anche finito in Parlamento attraverso un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, del deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, Gianni Melilla. Adesso torniamo a Teramo. Il movimento franoso in contrada mezzanotte non conosce sosta. Questa mattina i residenti hanno notato un'ulteriore frana che ha creato evidenti spaccature sulla strada. Vigili del Fuoco e Polizia Municipale hanno deciso di chiudere un tratto della strada. Adesso contrada mezzanotte è divisa in due. Andiamo a vedere. Prosegue il movimento franoso in contrada mezzanotte. Questa mattina un'altra sorpresa. Diversi spacchi della strada che hanno costretto i Vigili del Fuoco, dopo un sopralluogo dell'assessore Di Stefano, a transennare la strada. Quindi insomma contrada mezzanotte divisa in due. Sì, infatti come abbiamo più volte segnalato anche al Comune, questa era una strada che si muoveva da diverso tempo. Abbiamo fatto le segnalazioni, però fino adesso non è stato fatto niente. Questa mattina ci siamo trovati qui molte persone a passare e non possiamo più uscire. Dividendo la zona da una parte a un'altra. E le parti a monte diciamo che non è più collegata alla città, non può più uscire. Quindi un disagio grandissimo per tante famiglie. Più o meno quanti sono i residenti che in qualche modo sono intrappolati in casa? Una quindicina di famiglie saremmo più di 50 persone, ma poi diciamo che ci sono anche una persona che ogni due giorni deve fare la dialisi, perciò arriva un'ambulanza oppure va da solo e questo è bloccato, non può più neanche fare le cure mediche necessarie. Ci sono state delle rassicurazioni da parte dell'amministrazione comunale? No, ci hanno solo detto che qui ci vorrebbero qualche milione di euro. Loro non hanno i soldi per fare ciò, a più di una volta ce l'hanno detto e per adesso dobbiamo arrangiarci. E quindi come si farà ad ovviare a queste problematiche per i residenti? Non lo so, loro adesso hanno riaperto questo tratto, hanno deviato in questo tratto qui, ma in questo tratto qui è anche interessato alla strada. Pensano di fare qualche deviazione, ma sarà una cosa, anche perché questa strada è transitabile solo per mezzi, per macchine non per mezzi di soccorso o altri tipi di mezzi, perciò non lo so come hanno l'intenzione di fare. L'assessore è venuto, è stato 10 minuti e è andato via. Ci sta questo problema dei ricami che deve venire tutte le mattine a prendere il latte. Se qua non si passa e di giù non si passa, non lo so dove passa, vuole per aria. E più porta i mangimi, porta i prodotti per andare avanti all'azienda. Le lasciamo libere, lasciamo tutto, qualche cosa si deve fare. Dici, leva la tranzenne, passa e poi la rimette. La responsabilità è, se è una cosa normale, dopo sei anni che sta così, che si è stata segnalata al comune, si è stata segnalata alla consorzione della lagra, si è stata fatta tante cose, però tutti venivano a vedere e poi se ne andavano a casa, tutti tranquilli. C'è anche un'altra frana che preoccupa, e anche di più, è quella di Contrada Marina di Mociano, che va avanti. Adesso parte di una casa già inagibile e addirittura crollata. Per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Riccardo Mercante, il presidente della Regione d'Affonso, ha fatto solo passerella elettorale e nel sopravluogo del novembre del 2014, senza intervenire concretamente per risolvere il problema. Per la frana di Contrada Marina di Mociano Sant'Angelo, la Regione ha fatto solo uno spot pubblicitario. Un anno e mezzo fa, con tanto di volo in elicottero del presidente D'Affonso, insieme all'allora capo della protezione civile Gabrielli, a tutt'oggi la Regione non ha stanziato fondi per intervenire. Lo dice Riccardo Mercante, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha effettuato un sopralluogo e ha potuto constatare che una delle case maggiormente interessate dal movimento franoso è praticamente crollata, spaccandosi letteralmente in due, come si può vedere dalla foto. Quanto sta accadendo in queste ore a Contrada Marina, con il crollo di un'abitazione e una frana ancora in corso, ha detto Mercante, è l'ennesima dimostrazione dell'immobilismo di questo governo regionale. Tutti ricorderanno, ha spiegato Mercante, con quanta sollecitudine sia stato accolto ad ottobre 2014 il mio invito ad accertare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo, purtroppo, venne trasformato, dice Mercante, nell'ennesima sfilata pubblicitaria da parte di D'Affonso, con tanto di giro in elicottero dell'allora capo della protezione civile Franco Gabrielli. E lo dimostra il fatto che nel corso di questi due anni, dice ancora l'esponente del Movimento 5 Stelle, nessun finanziamento è stato erogato, nessun lavoro è stato eseguito e le famiglie sono costrette o ad abbandonare le loro abitazioni con tutti i disagi connessi o ad accettare il rischio di vivere su un terreno instabile. Fortunatamente la casa crollata, aggiunge Mercante, non era abitata. La priorità ora, conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle, è quella di intervenire senza indugi. Torna in cella, a distanza di pochi giorni dalla sua remissione di libertà, l'uomo originario di Anagni, ma residente a Santo Mero, che lo scorso 28 marzo era stato arrestato in fraganza di reato mentre ritirava dal titolare di un bar della zona il denaro del riscatto delle chiavi e del telecomando dell'esercizio commerciale. Appena uscito dal tribunale, dopo la convalida dell'arresto e la remissione di libertà in attesa del giudizio, Riccardo Santoro, 36 anni, si sarebbe recato nello stesso bar a bordo di un Fiat Fiorino rubato e dopo aver consumato una bevanda si sarebbe rifiutato di pagarla, minacciando il titolare. Era poi tornato sul posto armato di un martello con cui aveva danneggiato la vetrata. Antisfondamento, l'intervento dei carabinieri è servito a bloccare ulteriori gravi atti. Nella perquisizione della sua abitazione, i militari hanno rinvenuto sei biciclette, trapani elettrici, mole ed avvitatori e anche fari a LED asportati da una rotonda comunale a Nereto, nonché un coltello a seramanico. È stato di nuovo arrestato per minacce e danneggiamento aggravato e denunciato a piede libero per furto aggravato, ricettazione e porto abusivo di coltello di genere proibito. Torniamo a Teramo. I commercianti teramani si dicono preoccupati per la possibile chiusura di Corso San Giorgio per diversi giorni, come confermato dall'assessore ai lavori pubblici di Giovanni Giacomo. Una scelta che permetterebbe così di concludere prima i lavori. D'Arros Foglia, in rappresentanza della ConfCommercio, spiega che non possiamo permetterci di restare chiusi per tanti giorni. Aspettiamo però di essere convocati dall'assessore per capire meglio quali siano le reali intenzioni. Ascoltiamo. Corso San Giorgio potrebbe chiudere per diversi giorni e in diversi tratti, cosa che chiaramente potrebbe portare degli scompensi ai commercianti, sebbene in questo modo i lavori sul corso finirebbero molto prima. Questo almeno è quanto sostiene l'assessore di Giovanni Giacomo. Qual è il vostro punto di vista a riguardo? Siamo preoccupati per quanto riguarda un po' la tempistica, perché da diversi giorni si parla sulla stampa di tre o addirittura sei giorni, il che ci lascia leggermente preoccupati proprio perché le attività commerciali in questo momento non si possono permettere di chiudere addirittura sei giorni, che sarebbe davvero una follia. Riguardo alla convocazione, siamo in attesa di essere chiamati dall'assessore e dal sindaco proprio perché per stabilire quali sono i giorni e soprattutto per avere precisione di quelli che saranno i lavori e soprattutto di quel famoso cronoprogramma di cui abbiamo sempre parlato, però a quanto pare non mi pare che si stia realizzando. Cosa pensate di rispondere in questa convocazione? Qual è la vostra proposta per ovviare quantomeno al problema? Chiederemo un po' la volontà dei commercianti di accelerare certamente i tempi di questo rifacimento. La problematica è di dover far chiudere i negozi, inizialmente si sono parlati di due giorni, il che è anche altrettanto complicato perché un'attività commerciale c'è chi se lo può permettere e chi purtroppo non può farlo. Però vorremmo capire questi lavori che ci erano stati spiegati di essere fatti il giovedì pomeriggio o addirittura la domenica. Vorremmo chiarezza in questo. C'è intanto un'altra battaglia a Vinta e quella dei bagni pubblici in prossimità di Largo Madonna delle Grazie che finalmente riapriranno sabato mattina. Infatti in questo fine settimana saranno aperti dalle 10 alle 13. Andiamo a vedere. Solo una settimana fa il titolare del Roxy Bar aveva lanciato una richiesta all'assessore Marco Tancredi ovvero quella di riaprire i bagni pubblici che sono nella zona di Porta Madonna. Ebbene l'assessore Tancredi si è attivato. Certo, non me l'aspettavo in così breve tempo però la richiesta che ho fatto la settimana scorsa di rimettere in funzione questi bagni pubblici l'assessore Tancredi in collaborazione con l'assessore Luca Antoni che è responsabile appunto dei scavi archeologici sono adoperati e già da questo sabato pare che siano aperti dalle 10 all'una per cominciare. Poi penso che gli altri sabato saranno aperti molto più a lungo. Comunque voglio ringraziare perché non bisogna solo accusare l'amministrazione ma quando fanno alcune cose bisogna anche ringraziare. Quindi io ringrazio sia l'assessore Tancredi che si è adoperato e anche l'assessore Luca Antoni che ha accolto questa richiesta mettendo appunto in funzione di nuovo questi bagni. Anche in vista della riapertura del sito archeologico qui in Porta Madonna giustamente coloro che verranno a visitare avranno la possibilità di poter utilizzarli i bagni. Certo, questo è un piccolo passo ulteriore perché già riaprendo i scavi archeologici per far usufruire dei bagni vuol dire che c'è anche l'intenzione da parte dell'assessore Luca Antoni di rimettere anche in funzione di ridare la possibilità ai cittadini di tiramane di ricominciare a rivedere questi scavi da più vicino insomma e quindi possono usufruire e girare all'interno degli scavi per guardare questo scavo archeologico che abbiamo a terra. È pronto il nuovo piano sociale della regione Abruzzo secondo l'assessore Arramo Marinela Sclocco rivoluzionerà il settore con il coinvolgimento diretto delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini. Abruzzo, regione in difficoltà con l'aumento della povertà delle donne vittime di violenza con un tasso di natalità molto basso e un tasso di invecchiamento molto alto. Il nuovo piano sociale che la regione sta redigendo strumento definito rivoluzionario per metodi e contenuti è finalizzato proprio a rispondere a tutto questo. La bozza delle linee guida del nuovo piano e i dati del profilo sociale regionale vera e propria fotografia della situazione abruzzese sono stati illustrati dall'assessore al sociale Marinella Sclocco. È un piano sociale che io reputo rivoluzionario perché fa fare all'Abruzzo un salto veramente in avanti di anni. Rimette in campo le regole ma che garantiranno qualità ai servizi non solo qualità per i cittadini ma anche per i professionisti del sociale che debbono rivedere riconosciuta la propria professionalità. Inoltre stiamo tentando di far sì che coincidano i distretti sanitari con gli ambiti sociali e stiamo facendo delle riunioni anche con i direttori dei distretti piuttosto che appunto con i responsabili degli ambiti e finalmente questa nuova zonizzazione, questa coincidenza ci sarà in Abruzzo dopo 17 anni. La legge che sanciva questo è una legge del 2008 ma non è stata mai applicata. Adesso ecco, grazie anche a Lanci che ci sta dando una mano con i sindaci stiamo cercando di far sì che questo possa succedere e finalmente ci possa essere questo dialogo questa relazione tra il sociale e il sanitario. Nel sottolineare che lo scopo è anche quello di recuperare i ritardi accumulati rispetto alle altre regioni Sclocco ha affermato che gli obiettivi generali del piano sono quelli di ritardare l'insorgenza della non autosufficienza di incrementare il tasso di natalità di ridurre il tasso relativo all'insorgenza di malattie croniche e invalidanti di ridurre il numero dei giovani privi di lavoro di diminuire il numero delle violenze di ridurre il numero di famiglie in situazione di povertà e di persone con grave deprivazione La provincia di Teramo ha chiesto alla regione Abruzzo di rivedere i meccanismi che regolano le autorizzazioni ai tirocini di garanzia giovani per garantire equità di distribuzione fra i territori e quindi fra gli utenti e di rifinanziare la misura per consentire a quanti sono rimasti esclusi dall'ultimo avviso possano accedervi. La necessità di un confronto secondo la provincia scaturisce da quanto accaduto due settimane fa quando tutti i giovani teramani, ma non solo loro sono rimasti esclusi dalla chiamata a sportello attraverso l'online dagli ultimi tirocini di garanzia giovani Secondo la provincia, i centri per l'impiego di Teramo hanno provato a collegarsi alle 8.59 con domanda rifiutata perché è troppo presto e alle 9.01 quando è stata rifiutata perché è già tardi Inoltre, continua la provincia è stato consentito che in una sola istanza fosse contenuto un elenco di tirocini da attivare quindi chi ha avuto la fortuna di fare clic alle 9 in punto ha esaurito tutte le risorse disponibili Queste sono le cose che fanno fuggire all'estero i nostri giovani, commenta il presidente della provincia Renzo Di Sabatino e che rendono incomprensibile la pubblica amministrazione agli occhi dei cittadini Il danno è duplice ai ragazzi e alla credibilità delle istituzioni I bambini della quarta C della scuola primaria di Teramo Noel Lucidi hanno vinto con altre 7 scuole su 2.000 partecipanti il concorso nazionale indetto da Conad scrittori di classe il loro racconto è stato pubblicato vediamo I bambini della scuola primaria Noel Lucidi si sono aggiudicati il primo premio di un concorso molto interessante scrittori di classe il loro racconto è stato pubblicato e quindi vantano insomma un vero e proprio volume tutto creato da loro e oggi la premiazione è qui al Conad proprio perché il concorso è stato voluto e ideato da Conad Sì, è proprio così è Conad che da due anni perché questa è la seconda edizione che esce un po' fuori dalle righe in maniera benevola nel senso che oltre ad essere commercianti noi cerchiamo di fare qualcosa di buono sul territorio sia a livello sociale che a livello culturale per sensibilizzare un pochettino i bambini questa qua è stata una bellissima promozione nel senso che abbiamo coinvolto a livello nazionale parlo di questi numeri circa 2000 scuole sono state coinvolte nel senso che sono stati fatti scrivere ai ragazzi delle scuole primarie praticamente elementari dei racconti delle fiab poi una giuria a livello nazionale si è occupata di sceglierne otto solo otto di fiab che poi successivamente venivano pubblicate noi siamo qui a parlare in questo momento perché siamo orgogliosi che la scuola Noi Lucidi la quarta C della Noi Lucidi di Teramo è tra queste prime otto che in collaborazione con lo scrittore di rifama nazionale Stefano Portiglione hanno alla fine pubblicato questo libro il loro raccolto è stato pubblicato su un libro che si chiama Nel laberinto dei quadri cioè dopo scritto da Stefano Portiglione però il racconto la trama è dei ragazzi della quarta C della Noi Lucidi una grande soddisfazione per questi bambini solo otto i volumi premiati nonostante duemila siano state le scuole che hanno partecipato insomma sono proprio bravi questi baby scrittori della Noi Lucidi sì allora è stata un'attività molto coinvolgente e motivante e i bambini l'hanno apprezzata subito con entusiasmo siamo partiti dall'Incipit io ho scelto i quadri e loro sono partiti con le storie con lo storyboard alla lavagna e da qui sono partiti tantissimi testi che poi sono stati manipolati e rielaborati ma la cosa che mi ha colpito è il lavoro a coppia il lavoro a gruppi che la coinvolti con tanto entusiasmo e io sono soddisfattissima della classe sabato prossimo 2 aprile alle 18 a Teramo nella struttura espositiva comunale di Torre Bruciata in mia antica cattedrale sarà inaugurata la mostra internazionale d'arte contemporanea itinerante omaggio a Totò a 50 anni dalla sua morte saranno esposte fino al 17 aprile le opere di una sessantina di artisti che celebrano il mito Totò in chiave artistica la mostra è curata da Enzo Angiuoni e Gerson Mina Rasetta sul progetto di Lamberto Correggiari e Lorenzo Di Guglielmo l'omaggio a Totò è il primo appuntamento della 21esima edizione del premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo organizzato da Teramo Nostra che come sempre va il clou delle iniziative nell'autunno prossimo a Termo domenica 3 aprile venerdì 8 aprile giovedì 14 appuntamento alla sala polifunzionale della provincia con nomi altisonanti della musica nell'ambito della manifestazione Let's Get Lost vediamo terza edizione di Let's Get Lost storie di uomini e di Jets by Eder nuovi appuntamenti a partire da domenica 3 aprile tutte all'insegna del Jets alla sala polifunzionale cosa ci dobbiamo aspettare? Sì questo cartellone di aprile 2016 mi rende veramente orgoglioso perché portare a Teramo tre concerti di questo calibro è un motivo d'orgoglio per me ma soprattutto lo deve essere per la città e quindi invito tutti i terramani a venire a vedere i concerti e soprattutto a convincere i ragazzi a venire a vedere i concerti soprattutto i ragazzi che suonano è un'occasione imperdibile e quindi vorrei presentare il cartellone che parte domenica 6 e 3 aprile alle 18.30 con una leggenda vivente Alfonso Johnson ex bassista di Weather Report per non parlare di altre collaborazioni stellari si esibirà in trio con Adriano Molinari alla batteria e Frank Ricci alla chitarra poi avremo l'8 aprile un altro diamante Stanley Jordan leggenda vivente della chitarra e non è mai venuto da queste parti e quindi sarà un altro validissimo motivo per venire e chiuderemo con il progetto di Paolo Di Sabatino che quest'anno avrà ospite una stella del jazz come Dennis Chambers e per questo la presenza di Dennis Chambers è stato un validissimo motivo per far tornare il progetto Trace Elements nella rassegna i biglietti si possono acquistare in prevendita presso il circuito Ciao Ticket o se è più comodo per i terramani presso l'ufficio ACS Abruzzo che si trova presso Spazio Electa di fianco del Michelangelo domani alle 18 presso il bar San Matteo un largo San Matteo a Teramo un nuovo appuntamento con gli aperitivi scientifici l'innovativa formula di divulgazione e intrattenimento del WWF di Teramo titolo dell'incontro è proteggere fotografando le avventure di un giovane fotografo abruzzese in giro per il mondo con Alessandro Di Federico fotografo e documentarista che ha iniziato la sua attività nell'Oasi WWF del Lago di Penne nel Pescarese per poi arrivare a visitare e documentare la ricchezza della biodiversità in tante parti del mondo adesso vediamo che tempo farà le previsioni meteorologiche sono curate da meteoteramo.it poi parleremo di sport nella nostra pagina sportiva previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio moderatamente nuvoloso sui settori appenninici sereno sui settori costieri in serate nella notte molto nuvoloso sulle zone interne e sui rilievi variabile sulle zone marittime temperatura insensibile aumento massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 23 e 26 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli o moderati orientali mare quasi calmo poco mosso in provincia di Teramo al pomeriggio variabile sulle zone appenniniche parzialmente nuvoloso sulle zone costiere in serate nella notte coperto lungo la dorsale molto nuvoloso sulle zone adriatiche temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 26 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 18 e 21 gradi sulle coste venti deboli o moderati orientali mare quasi calmo ancora non ci sono novità a rimini sul pagamento degli stipendi arretrati ai giocatori romagnoli qualora la situazione non dovesse sbloccarsi e qualora i tesserati dovessero passare i fatti e scioperare sabato 2 aprile il rimini potrebbe presentarsi a Teramo con la squadra berretti e questo per evitare lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica a proposito comunque della partita di sabato al Bonolis sentiamo cosa ne pensa il difensore terramano Luca Cecchini archiviate le festività pasquali per il Teramo si avvicina il momento di tornare in campo sabato alle 17 e 30 i biancorossi ospitano al Bonolis un rimini in piena crisi economica in attesa che arrivi la decisione definitiva sullo sciopero minacciato dai tesserati della prima squadra romagnola i giocatori del diavolo si preparano per affrontare una partita che in caso di vittoria potrebbe regalare la quasi certa permanenza in categoria sull'argomento salvezza nei giorni scorsi è intervenuto il difensore biancorosso Luca Cecchini potrebbe essere quasi quella decisiva in caso di vittoria noi ovviamente ci impegneremo al massimo è un'altra partita in casa che finora abbiamo sempre fatto bene quindi cercheremo di continuare di finire quest'anno mantenendo inviolato il nostro campo dopo un avvio condito da tanta panchina Cecchini nelle ultime settimane è diventato titolare fisso dello scacchiere tattico di Vivarini il difensore comunque non recrimina sulle scelte precedenti fatte dal tecnico biancorosso bensì fa mea culpa il mister sceglie quello che pensa sia meglio magari più da tirarle a me probabilmente se potevo fare qualcosa in più sicuramente perché si può sempre fare meglio e se non se non non ho guadagnato la fiducia già da prima del mister magari qualche colpa va a me magari ho l'impegno o la concentrazione comunque potevo far sicuramente qualcosa in più Cecchini si dice soddisfatto dell'attuale utilizzo sulla fascia sinistra anche alla luce dell'importante lavoro di natura tattica che è chiamato a svolgere finora è andata bene per il fatto che rimango bloccato comunque sono terzo centrale quindi posso secondo i dettagli del minister fare qualche sortita ma ovviamente non andando sempre comunque essendo il terzo centrale poi rischierei anche di creare degli scompensi e lasciare dei buchi per troppe ripartenze degli avversari quindi bisogna un attimo equilibrare la cosa Attualmente Cecchini è in prestito secco dalla Virtus Entella sulle possibilità di rimanere a Teramo ecco il pensiero del difensore di origini friulane Sì mi sono trovato bene poi ovviamente il futuro adesso io sono in prestito quindi non aspetta a me scegliere però comunque è una piazza calda mi sono trovato molto bene Adesso scendiamo nel girone F di Serie D nel recupero di ieri pomeriggio ancora una sconfitta esterna per il Giulianova i giallorossi ad Avezzano hanno perso due a zero e adesso sono sempre più vicini purtroppo alla retrocessione in eccellenza sulla gara dei De Marsi seguiamo questo servizio più della prestazione per l'Avezzano erano importanti i tre punti e da questa angolazione si può dire che l'obiettivo è stato centrato pienamente una rete per tempo e la classifica dei biancoverdi si fa meno pericolosa ma come diranno allenatore e presidente negli sfogliatoi la prestazione non è stata all'altezza di precedenti esibizioni quella colmatelica in particolare il Giulianova che di problemi ne ha ancora di più ha fatto quanto era nelle proprie possibilità ma ha pagato a caro prezzo i numerosi errori commessi nel corso della partita l'Avezzano parte in quarta e costringe i giallorossi costantemente sulla difensiva tre minuti e Bisegna sfiora il vantaggio sul calcio di punizione è bravissimo Proietti che vola all'incrocio e smanaccia sul fondo ancora un angolo per i marsicani e sulla battuta di Bisegna è l'avanzato Menna a sfiorare il bersaglio con questo colpo di testa poi ci provano anche gli ospiti ma il tentativo di Pellecchia è abbastanza velleitario e la sfera si perde abbondantemente alta sopra la traversa cinque minuti dopo l'Avezzano passa in vantaggio sfruttando una dormita della difesa che lascia di Genova libero di ricevere da Bisegna stoppare guardare negli occhi proietti e batterlo imparabilmente Giuliesi che accusano il colpo e in chiusura di tempo Bisegna prova ad arrotondare incuneandosi in area alla ricerca del tiro ma viene stoppato in estremis dal ritorno di un avversario e passiamo ora a vedere il secondo tempo il primo tentativo è di Di Curzio che parte in contropiede percorre 70 metri a tutta birra prima di essere falciato da Giampaolo che però rimedia il rosso diretto Bisegna non sfrutta il successivo calcio di punizione ma il Giulianova adesso gioca con un uovo in meno altri tre minuti e c'è un corner per l'Avezzano nell'area piccola De Santis alza troppo la mira e tutto svanisce calcio piazzato di Michele Bisegna forte ma troppo centrale e Proietti blocca senza problemi ventitresimo di Curzio recupera palla al limite la difende e tira ma ancora una volta la sfera termina alta poi viene spulso anche straccia per doppio giallo e per il Giulianova è anche la fine di ogni speranza l'Avezzano al trentottesimo chiude definitivamente la pratica Sassarini fa tutto da solo avanzando sulla sinistra per concludere poi imparabilmente quasi dalla linea di fondo 2 a 0 e risultato in cassaforte i marsicani potrebbero arrotondare al quarantanovesimo ma di Curzio non è fortunato quando cerca di sfruttare l'assist di Tariuk destro raso terra e base del palo che respinge beffardamente la conclusione dell'attaccante ma forse per il povero Giulianova la punizione sarebbe stata eccessiva sabato d'oprì a Teramo nella sala della San Carlo del Museo Civico-Acheologico si terrà la festa dell'Atletica l'appuntamento è fissato per le 16 nel corso della cerimonia si sfideranno gli atleti abruzzesi che si sono maggiormente distinti a livello nazionale in tutto il 2015 durante la manifestazione infatti verranno consegnati riconoscimenti in particolare alla marciatrice Vanessa Tomei della Gran Sasso convocata per i mondiali Under 18 e al neocampione italiano cadetti Salvatore Angelozzi triplista tra le società saranno invece premiate l'Atletica Romano promossa in finale argento maschile e l'Atletica Gran Sasso Teramo qualificata alla finale nazionale assoluti con la squadra femminile io mi fermo qui era l'ultima notizia grazie a averci seguito l'appuntamento all'edizione delle 19.15 buon proseguimento di programmi con Teleponte grazie a tutti 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 Grazie a tutti.